ma io vedo solamente uno di stessi di foglie e ancora non c'è niente sono stato appena chiamato oggi c'è anche il paniere vedete che qualcuno si è lamentato che non aveva il paniere sul sito dei tifosi guarda qua saverio che ha trovato che buco qui sotto è abbastanza profondo vedete se c'è il fratellino cerchiamo qua vicino questo è il run de l'oste bravo bravo edo bravo grazie a questo albero non ci possiamo lamentare mentre guardo altre panoramiche edo ne ha appena raccolto uno che è qua vicino all'albero aspetta beh questo qua che hai fatto scusa questo qua bisogna raccoglierlo perché insomma è discreto poi ce ne sono altri due